Mario Fedeli, Presidente Lions Club Novara Ticino, questa sera una serata davvero importante, siamo nella settimana dei festeggiamenti di San Gaudenzio, patrono della città di Novara e questa sera ospite d'onore il Vescovo Monsignor Franco Giulio Brambilla. Ma perché Mario questa serata così particolare? Buonasera, ma diciamo intanto che ci è sembrato la cosa più bella e normale invitare Monsignor Brambilla, nostro Vescovo, in occasione della nostra festa patronale e poi perché proprio in questa festa patronale, in occasione del nostro centenario, centenario del Lions Club International, vogliamo riconoscere al nostro Vescovo quello che è la massima non-efficienza lionistica, è il Melvin Jones per tutta l'attività che ha fatto finora sia per la fame sia soprattutto per i giovani e questo ci è sembrato quindi l'occasione migliore e più adatta per farlo.